Oggi torniamo nel mondo delle tecniche secche. Parliamo di Pampastel. Salve ragazzi e ragazze e bentornati in una nuova recensione onesta qui sul canale di Momarte. Io sono Antonio Pace e come al solito vi do in questa rubrica la mia opinione riguardo a materiali e strumenti di belle arti. Oggi è il turno di un materiale che ho utilizzato in passato ma solo come integrazione o comunque in piccola percentuale all'interno del processo creativo di alcune mie realizzazioni. Sto parlando dei pastelli in godè Pampastel. Vi parlerò di un set molto particolare in quanto costituito da 5 tinte pastello davvero molto chiare. Lo Starter Set Tints. A supplemento di questi ho testato anche un set di 44 strumenti di 13 tipologie chiamate soft indispensabili per l'utilizzo di questi Pampastel e di tre nuovi set di pennelli dedicati al pastello secco chiamati Pastel Brushes e marchiati Borciani e Bonazzi. Questa volta come supporto ho utilizzato diversi fogli di Pastel Matte di diverse tonalità che avete già visto in un video passato qui sul canale. I Pampastel sono dei pastelli in godè estremamente morbidi. Quindi sono praticamente dei pastelli secchi ridotti in polvere e contenuti in maniera compatta in un contenitore in plastica. Hanno la particolarità di poter essere utilizzati in maniera totalmente diversa rispetto ai pastelli secchi classici. Quasi avvicinandosi alla gestualità della pittura vera e propria ma mantenendo i vantaggi di un pastello morbido classico. Infatti essendo prodotti come in quest'ultimi nel quale sono utilizzate bassissime percentuali di legante si ha una resa finale davvero vivida e un'altissima sfumabilità. Ma approfondiamo questi aspetti più avanti. Questa volta voglio partire con il parlarvi di alcuni ausiliari indispensabili per l'utilizzo di questi Pampastel. Infatti per poter utilizzare questi pastelli o comunque per utilizzarli al meglio è necessario l'utilizzo di appositi applicatori. Alcuni di questi sono forniti anche direttamente con il set starter del video di oggi e questi sono sostanzialmente delle spugnette di varie dimensioni e forme. Queste vanno passate sulla superficie del Pampastel per raccogliere il pigmento. Al massimo tre volte per evitare la produzione di polvere extra sul godere per poi depositarlo sulla superficie pittorica. Ce ne sono vari tipi. Davvero molto interessanti i quattro strumenti che ricalcano le forme di una classica spatola per pittura con delle estremità di forma diversa alle quali vanno applicate le rispettive spugnette. Si riesce grazie a queste ad avere un approccio diverso alla realizzazione di lavori a pastello. Io ho utilizzato proprio una di queste spatole per diverso tempo nella realizzazione delle bozze di alcuni dipinti che ho realizzato. Proprio per la vicinanza che questo strumento ha a questa tecnica pittorica parlando di gesti e movimenti della mano. Le altre spugne da applicatori hanno tutte proprie forme e caratteristiche e nonostante secondo me non sia necessario possederle tutte per ottenere dei buoni risultati. Ognuna ha le proprie peculiarità e segni che li rendono più adatti per l'uno o l'altro scopo. Le spatole come già detto mi sono piaciute davvero molto ma secondo me rispetto alle spugne più affilate come la più piccola a forma rettangolare peccano forse un po' di precisione. Con quest'ultime si riescono ad ottenere delle linee un minimo più precise anzi insieme ai mini applicatori sono gli strumenti con i quali si riesce ad ottenere secondo me il segno più stretto e preciso. Ho apprezzato molto anche le spugne più grandi chiamate angle slice. Hanno secondo me un'ottima versatilità in quanto grazie agli angoli acuti che si hanno alla loro dimensione e dalla loro morbidezza, quest'ultima caratteristica che è comune a tutte le spugne soft si riesce ad avere un segno preciso, la possibilità di coprire una buonissima parte di superficie anche con un solo passaggio della spugna ed anche la possibilità di sfumare al meglio due tinte fra di loro. Come appena detto tutte le spugne di questo set sono estremamente morbide e di conseguenza non è difficile ottenere delle buone sfumature con ognuna di esse. Questa caratteristica secondo me però fa sì che non siano indistruttibili. Non le voglio chiamare delicate perché secondo me non sono affatto uno strumento delicato ma a mio avviso devono essere utilizzate con un minimo di cognizione di causa e su supporti adeguati. Ciò non vuol dire che si debbano utilizzare necessariamente su carte o supporti specifici ma personalmente ne eviterei alcuni, quelli estremamente abrasivi nello specifico. Per esempio non li utilizzerei in maniera aggressiva soprattutto su una superficie troppo abrasiva come può essere per mia esperienza un fondo trattato con alcuni primer per pastelli o comunque presterei un po' più attenzione nel farlo. Questo perché l'elevata abrasività del supporto potrebbe rischiare di danneggiare le spugnette specie nei suoi angoli più accentuati compromettendone ovviamente i successivi utilizzi. I mini applicatori sia con che senza manico che sono molto simili fra loro e la spugna ovale grande sono gli strumenti che mi sono sembrati i più specifici di tutto il set. I primi li ho apprezzati comunque in quanto utili per ottenere segni e sfumature di piccole dimensioni anche nelle realizzazioni un po' più ridotte. La seconda invece è quella che ho utilizzato meno e che forse non ho apprezzato appieno molto probabilmente per il formato delle realizzazioni che ho eseguito in questo video. La ritengo la più adatta per realizzare medie e grandi campiture di colore. Grazie alla sua dimensione infatti si riesce a coprire un'ottima porzione di supporto in maniera omogenea con grande facilità. Con la stessa facilità si riescono ad ottenere con essa delle sfumature il più graduali e omogenei possibili. In definitiva li ritengo degli strumenti davvero validi se non indispensabili per l'utilizzo delle cialde pan pastel con proprie caratteristiche ed attitudini ovviamente e queste ne fanno preferire alcuni rispetto ad altri ma solo in base ai propri gusti ed attitudini personali. Ora passiamo ai protagonisti di questa recensione. I pan pastel nel set da 5 tonalità pastello starter pack teens. Fino a qui non ho accennato al packaging come faccio di solito perché tutti gli strumenti di cui ho parlato sono confezionati in semplici buste in materiale plastico. Differente il discorso per quanto riguarda questi pastelli in cialda. La particolarità del prodotto si riflette anche nel packaging che lo contiene. Infatti il pigmento compresso è contenuto in delle custodie plastiche trasparenti che permettono di vedere la tonalità del pastello contenuto. La caratteristica interessante è quella che ogni godee è provvisto di una filettatura che rende ogni contenitore modulare ed accorpabile ad altri contenitori simili. Stessa cosa vale per il vano che accoglie le spugnette ovali, le due piccole spugnette ed il mini applicatore. Anche esso può essere impilato con altri vani simili o altri godee. Personalmente è una soluzione che apprezzo molto in quanto secondo me può aiutare a salvare spazio e a tenere in ordine lo studio. Mi piace molto, originale e funzionale. Per testare questo set ho realizzato più dipinti con colori di pastel matte differenti per capire anche come i pan pastel a mia disposizione interagivano con questi supporti. Ho realizzato un ritratto su fondo blu scuro, un paesaggio su una tinta media ed un paio di studi anatomici di cui uno su tinta media ed uno su carta pastel matte bianca. Per tutte le realizzazioni ho integrato le tonalità di pan pastel a disposizione con una o due pit pastel di Faber-Castell e nel caso del paesaggio anche con un pastello secco Sennelier. Entrambi sono prodotti che abbiamo già trattato qui sul canale, trovate i video qui in alto a destra. Proprio riguardo all'utilizzo di questi pochi materiali aggiuntivi mi collego per parlare della composizione cromatica di questo set. Infatti queste cialde sono caratterizzate come già anticipato da tonalità tint chiare. Troviamo infatti un giallo ansa chiaro, un rosso permanente chiaro, un violetto chiaro, un blu oltre mare chiaro ed infine un verde permanente chiaro. Sono tutte tinte dalla tonalità diversa ma dalla spiccata luminosità. Ciò mi ha spinto totalmente al di fuori della mia comfort zone ed ha reso per me difficoltosa la realizzazione di dipinti utilizzando esclusivamente questo set. Di conseguenza per aggiungere un grado di contrasto maggiore e nel caso del ritratto un pizzico di saturazione in più su zigomi e naso, ho ritenuto necessario utilizzare qualche strumento in più. Questo set è infatti indicato a mio avviso con l'utilizzo di altre tinte più sature e meno luminose di Pan Pastel. Ciò non vuol dire che non si possano utilizzare da sole, anzi, credo solamente che in questo caso si sia un po' più limitati nella resa finale. Nel ritratto ho utilizzato una base abbastanza scura per tentare di sfruttarla per ottenere il contrasto che, come già detto, manca dall'unione delle sole tinte di questo set. A fine risultato è stato soddisfacente cercare di modulare la saturazione dei pigmenti per ottenere un chiaroscuro in grado di far percepire a sufficienza forme e volumi. Nel paesaggio ho utilizzato una matita pastello bianca ed un pastello di tonalità blu scuro. Questo per capire anche come questi pastelli in cialda possono interagire con la loro versione più tradizionale. Da questo punto di vista non ho riscontrato nessun tipo di problema, anzi, l'interazione è stata assolutamente agevole e gradevole. I Pan Pastel hanno lavorato benissimo sul pastello classico, sulla matita pastello e viceversa. Non mi aspettavo nulla di diverso in realtà. Un'altra realizzazione che ho eseguito per verificare la resa di queste tinte chiare è stato realizzare un paio di studi anatomici su carta grigia e bianca. Su quest'ultimo il risultato è stato abbastanza soddisfacente e particolare e dove le tonalità di questo set sono ovviamente risultate più vivide. Infatti cercando la giusta interazione fra le tonalità calde e fredde di questo set e sfruttando il giallo per le zone più in luce, il risultato è stato secondo me davvero sorprendente. Detto in maniera onestissima non credevo di poter ottenere un risultato credibile e leggibile, ma sono stato smentito seppur con un risultato abbastanza particolare come già detto. Per quanto riguarda la qualità di questo tipo di prodotto, avendolo provato in passato in maniera superficiale e forse un po' impropria, ma avendone percepito le caratteristiche, sinceramente avevo delle aspettative abbastanza alte che non sono state disillusa. La pigmentazione è davvero elevata e basta poco per ottenere un segno coprente e saturo. Modulando pressione e materia prelevata dal godè si riescono ad ottenere delle mescolanze e sfumature al meglio di quanto una tecnica secca può restituire. Secondo me se si vuole ottenere il massimo della precisione vanno affiancati da qualche matita pastello, ma per mio gusto danno il loro meglio quando la gestualità ed il segno delle spugne rimangono evidenti. Oltre a tutto questo altre caratteristiche importanti sono la cancellabilità, questi pastelli infatti si possono rimuovere con facilità dal supporto con l'ausilio di una semplice gomma e la possibilità di essere utilizzati con altre tecniche, anche bagnate, con matite colorate ed addirittura con dei marker. Grazie a queste e ad altre loro peculiarità questi pan pastel possono essere utilizzati in una miriade di modi differenti secondo me. Ho visto addirittura utilizzarli per tonalizzare e colorare una stampa fotografica. Insomma come immaginavo sono dei pastelli di indubbia qualità. Come accennato in precedenza ho utilizzato durante le realizzazioni anche i tre set di pastel brushes di Borciani Bonazzi. Uno dedicato alle sfumature, uno ai dettagli e uno per gli sfondi. Partiamo dal primo che ho nominato. All'interno troviamo un pennello con la testina a spugna per sfumature per l'appunto, con altre tre testine di ricambio e due spugne a blender per sfumature sempre. Entrambe le tipologie di strumento sono molto efficienti ed adatte per il compito per il quale sono stati pensati. Con il pennello è davvero molto semplice sfumare nella maniera che ci sembra più adatta. Ho provato a sfumare solo da una parte di una traccia abbastanza sottile di un pastello secco e devo dire che non ho riscontrato la minima difficoltà. Stessa cosa per le spugnette blender a forma di goccia. Grazie alla loro morbidezza e forma si riescono ad amalgamare davvero bene due o più zone di colori differenti, creando transizioni di colore davvero graduali e piacevoli. Nel kit dettagli troviamo tre pennelli, questa volta dei classici infilato, che sono studiati per realizzare e sfumare le più piccole campiture di dettagli. Si differenziano fra loro per la forma della punta che li rende ovviamente adatti a scopi differenti. Quello a punta tonda è quello pensato per le sfumature piccole e medie. Il filato è fra i tre il più morbido e questo facilita l'ottenimento di sfumature molto graduali. Stessa cosa vale per il pennello a punta conica e a punta piatta. Entrambe, anche se con un filato che ho percepito un po' meno morbido e più elastico, permettono di scendere nel dettaglio più minuto per ottenere dei cambi di tono in porzioni di supporto davvero ridotte, con la differenza che la punta piatta si trova più a suo agio nello sfumare tratti stretti ma tendenzialmente lineari. Piccola nota, sia questi tre che il pennello del set sfumature hanno una finitura del manico lucida. Scelta intelligente secondo me perché ne facilita di molto la pulizia da polvere editate da pastello secco. Il set di pennelli è un minimo più insolito fra questi e a mio avviso il set pensato per gli sfondi. All'interno troviamo un pennello a spazzolino con due teste intercambiabili differenti ed un pad di velluto. Quest'ultimo tramite un piccolo elastico è indossabile sulle dita della mano che non utilizziamo per disegnare ed è pensato per scaricare il pigmento in eccesso quando si passa a sfumare una zona di differente colore. Di tutti questi set di pastel brushes questo è l'unico elemento con il quale personalmente in parte non mi sono trovato a mio agio. È una cosa estremamente soggettiva. Il pad assolve bene alla sua funzione di scaricare setole o spugnette dal pigmento ma preferisco sempre avere le mani libere di tenere gli strumenti che utilizzo. Molto spesso ho la mano sinistra impegnata tenendo altre matite, pennelli o semplicemente un fazzoletto durante le realizzazioni. Di conseguenza quando ho utilizzato il pad non l'ho quasi mai utilizzato sulle dita. Passando alle testine sono presenti una in filato ed una in spugna. Innanzitutto è molto solido il sistema di ancoraggio delle testine al manico. Con entrambe le testine si riescono ad ottenere delle campiture omogene e piacevoli. Ho apprezzato particolarmente l'utilizzo della testina in spugna per fondere due sovrapposizioni di pastello per ottenerne una tonalità intermedia. Il filato della testina alternativa è davvero morbido e poco elastico. Secondo me è adatto a grosse campiture anche abbastanza dense ed in questi casi si ha secondo me il vantaggio oltre che di poter ottenere sfumature davvero morbide anche quello di spostare l'eccesso di pigmento dalla zona trattata a tutto vantaggio di una possibilità di stratificazione leggermente maggiore evitando di saturare il supporto prematuramente. Questa caratteristica l'ho riscontrata anche negli altri pennelli pastel brushes infilato con i quali secondo me specie per quelli con il filato più elastico va utilizzata a una pressione moderata e ben modulata. Come al solito passiamo alle conclusioni. I pastelli in cialda pan pastel sono secondo me un materiale qualitativamente indiscutibile. Essendo dei pastelli semi opachi si riescono ad ottenere sia una saturazione davvero ottima che una mescolanza ed una trasparenza del pigmento su altre stesure davvero buona. La loro compatibilità con altre tecniche altri materiali li rendono anche estremamente versatili ed aprono la strada ad un numero importante di possibilità espressive. Inoltre grazie alla peculiare forma in cialde hanno una gestualità nell'utilizzo davvero unica per quanto riguarda il mondo dei pastelli secchi avendo anche la possibilità di utilizzare stencil e mascherature varie. Non sono secondo me pensati per i principianti ma non bisogna nemmeno essere artisti con una lunghissima esperienza per poterli utilizzare. Secondo me se si ha un minimo di esperienza con delle tecniche secche questi pastelli secchi in cialda possono rappresentare un'importante possibilità espressiva in più e questo vale anche per gli artisti più esperti. Parlando degli applicatori soft come già detto tutti quelli che ho testato hanno caratteristiche proprie. Tutti hanno una qualità davvero buona. Oltre alle evidenti attitudini date dalle dimensioni l'unica cosa che posso dire riguardo a quelli un po più simili fra loro è provateli per trovare quello che fa più al caso vostro. Io personalmente ho apprezzato più i profili flat ma per una questione di attitudine e preferenza personale perché mi ricordano nel segno i pennelli che utilizzo di solito in pittura. I pennelli pastel brushes di Borciani Bonazzi per me rappresentano un interessante accessorio a supplemento che può essere di aiuto a qualsiasi artista utilizzatore di pastelli secchi soprattutto con necessità di ottenere le sfumature più morbide e graduali possibili. La qualità anche qui è indiscutibile a mio modo di vedere. Borciani Bonazzi ha praticamente sempre rispettato quelle che erano le mie aspettative in termini di qualità assoluta e questi pennelli non fanno eccezione. Personalmente li utilizzerò soprattutto nelle fasi iniziali dei miei lavori a pastello in quanto mi piace vedere il loro segno e la loro texture sul supporto ma anche in questo utilizzo la loro qualità mi verrà sicuramente in aiuto e di conseguenza li ritengo degli ottimi strumenti ausiliari per il pastelista in generale. Bene anche oggi siamo arrivati alla fine di questa recensione spero vi sia stata utile e se doveste avere delle domande o dei dubbi vi aspettiamo nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e valutate l'iscrizione per non perdervi i contenuti pubblicati. Un enorme grazie a tutta la squadra di Mo Marte è sempre un enorme piacere essere qui ospite sul vostro canale. Io vi saluto e vi aspetto a una prossima recensione. Ciao!